Buongiorno amici di Kikirki, buongiorno a tutti, buona giornata, buongiorno Nunzio, nuova puntata qui in quel di Altamura, oggi fortunatamente dopo le mareggiate, dopo i venti a 90 km orari, allagamenti, disastri vari, finalmente una bella giornata. E penso anche per un paio di giorni, Nunzio, ci dovrebbe essere, si incrociamo le dita, buongiorno signore, delle giornate di inizio autunno, anche perché siamo, ora già ci prepariamo per le festività natalizie, ormai siamo già, è passata la prima quindicina di novembre, già inizioni preparative, le luminari, la lambadina, l'albero di Natale, si va sul terrazzo, ogni volta che si prendono le nuove, le sedi di lambadina, magari si mettono a posto, ogni volta si portano poi giù nel salone, non accendono mai. E come lo compreranno? Niente, bisogna comprare ogni anno la sedia di lambadina perché l'anno dopo non funzionano mai. Panettoni vari, le colombe no, panettone, pandori, ormai siamo, tra un po' saremo tutti questi Black Friday che stanno facendo prezzi scontatissimi, saldi, quindi siamo già, non dico proprio sotto l'atmosfera natalizie, ma ciao, buongiorno signora, eh sì ma ci conoscono, o mi fa la trasmissione o mi ha salutato la Cristiana, quindi salutiamo, 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 e vabbè salutiamo. Allora, puntata della giornata, Nunzio fammi sempre ringraziare gli amici di Chichichisi, di Altamur, di Matera, che ci mandano, guarda, siamo stati invasi, altri che l'acqua, l'inondazione, siamo stati inondati da messaggi, video, messaggi audio, questo è il numero, dove sta il numero? Qua, no qua, il numero di Whatsapp, quindi continuate ancora a mandarci, Instagram, il macello, Facebook, un sacco di richieste di amicizie, quindi noi siamo veramente felici e vi ringraziamo per il vostro affetto e per il vostro attaccamento alla nostra trasmissione. E quindi, tra le tante segnalazioni c'è una, questa segnalazione leggera, oggi una puntata leggera, proprio che non dura tantissimo, un signore abitante in questa via che si dovrebbe chiamare, se non so, via Simmental. Ah, Pimental, e chi è questo Pimental? L'unzio, tu che sei un uomo acculturato, dovresti sapere chi è questo, qui non è Simmental, quella è un'altra cosa, quindi questa è Eleonora, dovrebbe essere Eleonora? Eleonora de Fonseca Pimental. Ah, de Fonseca, ah, Pimentel. E che faceva questa signora? E' stata una patriota, politica e giornalista italiana, fu una delle figure più rilevanti della breve esperienza della Repubblica Napoletana nel 1799. Nunzio, ma tu sei un pozzo di cultura, che devi fare, diciamo, Felice e Arturo? Tu, frate, sei perso qua, ora glielo dirò alla professoressa, alla preside Biancatragni, e noi abbiamo un vocale, come si dice, un tre cani qua, un tre, quattro cani. Nunzio, è una cosa, sapete, io non sapevo chi è questa signora Simmental, è lui subito Pimentel, è Eleonora Pimentel. Sinceramente, guarda, io de Fonseca conosco solo le scarpe, i sandali, ma che... Ah, de Fonseca. Vabbè, allora, questo cittadino, che ringraziamo, ci ha mandato questa senerazione su Facebook e ci ha detto, Emanuele, scusami, perché non ti fai una camminatina, diciamo, una parallela, come si chiama quella strada? Di Viale Regina Margherita. Di Viale Regina Margherita, che è proprio alle mie spalle, una strada, diciamo, centrale, ci sono dei negozi di pregio, cioè una strada importante, quindi via Simmental è praticamente una parallela e ci troviamo proprio esattamente qui in via Eleonora Pimentel. E mi ha detto, scusami, Emanuele, secondo me potresti anche non parlare, l'importante è che fai vedere le immagini, le immagini di come si trova, come è situata, come è mal ridotta la strada, cioè il manto stradale. La cosa comunque che più fa scalpore, sapete quale, perché mi diceva questo signore che periodicamente, siccome qui c'è un'attività commerciale, un'artigianale, e spesso vengono quelli della RAI a fare delle puntate per quanto riguarda la produzione di questa attività. Ed è venuto pure il mio collega di Catena lo stesso Capitrus, Osvaldo Bevilacqua, che tra l'altro siamo amici di Facebook, e praticamente di cosa succede? Quando vengono quelli della RAI, hanno praticamente fatto un wish and blow nel Maccherone, dicendo, ma scusate, cioè Altamura, città federiciana, una delle città importanti della Puglia, cioè poi quando veniamo noi qua vediamo questo strazio, questo asfalto, questa strada, cioè in condizioni veramente, buongiorno, buongiorno, ma molto, ma molto precarie. Infatti, Nunzio, non so se tu hai fatto, mentre io parlavo, gli insert, cioè è veramente una cosa indicibile, cioè se qualcuno dovesse andare con la bicicletta o con lo scooter, ma indipendentemente dal discorso bicicletta e scooter, proprio per una questione di decoro, cioè viene la RAI, fa le riprese, che figure ci facciamo? Diciamo, mamma mia, Ayalda Amur, chissà solo, poi tra l'altro questa è una parallela, vabbè noi siamo abituati perché ci sono tantissime strade così, però visto che stiamo, via di Cilmargherita, una strada importante, questa è una parallela, cioè non è che facciamo bella figura a presentarci al cospetto delle televisioni nazionali, ma scusami, che poi, vabbè il culetto lo posso dire, vedi che cosa hanno fatto, probabilmente qui c'era una buca un po' più grande, vedete che cosa hanno fatto, ci hanno messo una pezza della serie, della serie, della serie, vi abbiamo presi per il culetto, cioè praticamente questo è un lavoro fatto con i piedi, perché essendo questo qua, il cemento, il cemento, quello nelle, non il cemento, l'asfalto, è carino ragazzo, ti sei distratto, essendo, diciamo, l'asfalto quello a freddo, quello che si, nelle bustine di plastica, non hanno fatto altro che prendere, ammassarlo un po', qui tra qualche pioggia, andrà, ma già se ne viene via così, vedi, se faccio così, già se ne viene via, quindi immaginate la prossima pioggia, che succede? Poi, non sono lavori, adesso mi rivolgo all'ufficio tecnico del comune di Altamo, prego, prego signora, cioè non sono lavori che si fanno, questi lavori fatti veramente in maniera precaria, cioè se si vuol fare, infatti se tu vedi è stata messa una toppa, cioè è stato sovrapposto al vecchio asfalto, è stato sovrapposto quest'asfalto a freddo, nelle bustine, cioè il lavoro al re, facciamo passare alla signora, questa è una strada, delle signora, tutte femmine, passi, un lavoro fatto, buongiorno signora, un lavoro fatto a regola d'arte era, no? Con la fresatrice, fresare, eliminare il vecchio asfalto mal ridotto, arrivare al livello del vecchio asfalto e poi rimettere l'asfalto come Dio comanda, quindi senza bordature, qua non so se vedi, trasborda, c'è uno spessore tra l'asfalto vecchio esistente e questa schifezza che hanno messo, però diciamo, come si dice, ci hanno messo una pezza, però se tu ti fai un giro, Nunzio, non si può dire che questa è una strada mal ridotta, è tutta con i buchi, cioè è una strada piena di buchi e ogni tanto c'è un pezzo d'asfalto, quindi il contrario, ci sono dei pezzettini anche d'asfalto, guarda, è una cosa vergognosa e poi qui c'è l'intersezione con via Regina Margherita, quindi questa è la situazione. Poi ci avevano anche detto che c'era anche un problema dei marciapiedi e sono questi marciapiedi, anche qua non è stata fatta la pavimentazione, però da informazioni prese ci hanno detto che questo è un marciapiedi privato, cioè questa è una proprietà privata, quindi dovrebbe, e qua è un pericolo, qualcuno, beh, fai vedere la scarpa, ecco, non si vede più la scarpa, vedi, quindi sono sicuramente 7-8 centimetri, un anziano, un bambino, qua si frega subito la caviglia, tibia e perone, quindi non è, diciamo, come dire, un marciapiede idoneo per poter procedere, per poter andare a piedi, cioè per i pedoni possono andare. E quindi qua dice che dovrebbe essere un discorso privato, però in ogni caso, anche se è un discorso privato, la responsabilità, diciamo, della sicurezza è sempre comunale, quindi magari accordarsi con la proprietà privata e vedere un po' come poter fare per realizzare la pavimentazione, perché in altre situazioni è il comune che per una questione di sicurezza e di urgenza procede alla pavimentazione e poi fa pagare il conto alla proprietà. Quindi, diciamo, si potrebbe fare anche così, però io qua mi rendo conto che parliamo, 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 però chi dovrebbe ascoltare, chi dovrebbe, come dire, prendere nota, quindi gli amministratori, ho l'impressione che non se ne possono fregare di meno, perché vedo che nonostante questo ormai è più di un anno, non sono tre mesi che si sono insediati, però io sinceramente dalle puntate, dalle segnalazioni che noi facciamo giornalmente non ho visto nessun cambiamento, nessuna miglioria, non hanno, almeno, può darsi pure che ci sarà sfuggito, però ad oggi io non vedo nessun miglioramento, nessuna miglioria. Vabbè, Nunzio, a questo punto, a me sta venendo un'idea, perché questa strada, viste che è piena di buche, no, è una cosa veramente unica al mondo, che dici con la tua maestria? Vogliamo cambiare la toponomastica di questa strada? Che dici? Mi viene un'idea, invece di chiamarla via Eleonora Pimentel, che dici se la chiamiamo via Emmental? Almeno, il formaggio con i buchi, via Emmental, la strada con i buchi. Almeno, buongiorno, almeno rimane così, perché se la chiamiamo Emmental, poi, diciamo, il comune ha, come dire, il potere, il diritto di non asfaltarla più, perché a quel punto viene meno al nome. Quindi si chiama, da oggi, questa strada, non si chiama più Eleonora Pimentel, ma si chiama via Eleonora Emmental. Vabbè, per oggi è tutto, concludiamo velocemente questa puntata, ci vediamo domani con una puntata su Matera. Amici di Kikikiki, salve buono. Grazie. Grazie.